buongiorno a tutti video ascoltatori del canale youtube di italia medievale oggi abbiamo il piacere e l'onore di presentare un interessante saggio che tratta di un tema non così diffuso in ambito medievistico e si tratta precisamente di il rupestre e l'acqua nel medioevo religiosità quotidianità produttività a cura di elisabetta de minicis e giancarlo pastura pubblicato da pochissimo dall'insegna del giglio e sono un bel 196 pagine da leggere tutte in un fiato quindi io come mia abitudine non rubo tempo ma lascio molto volentieri alla parola agli autori e cominciamo con la dottoressa elisabetta de minicis prego grazie grazie dell'opportunità diciamo di far conoscere questo volume in quanto come lei ha detto giustamente il rupestre non è un argomento molto conosciuto in realtà rupestre è sempre stato legato al nostro mezzogiorno d'italia soprattutto e è soltanto diciamo da una decina d'anni che è stata oggetto di convegni scientifici anche organizzati da parte dell'università. In questo volume si raccolgono gli interventi che sono stati diciamo che sono stati nel in un terzo convegno che noi facciamo sul rupestre e che si è svolto nel 2019 e questa questa volta diciamo che nei convegni passati abbiamo trattato soprattutto della presenza di questi insediamenti medioali anche nel territorio dell'Italia centrale e non soltanto dell'Italia meridionale pur rimanendo questa parte della penisola cioè centro meridionale sicuramente l'area dove è maggiormente presente questo fenomeno. Tutti noi conosciamo i vecchi lavori che sono stati fatti già alla fine dell'ottocento nel novecento in Sicilia nella Puglia e così via. Dunque abbiamo cominciato a interessarci soprattutto di quel fenomeno insediativo dove le abitazioni in grotta erano sempre presenti insieme al costruito cioè quindi in quel fenomeno dell'inchestellamento che ha soprattutto caratterizzato in nostre regioni diciamo a partire dall'undicesimo secolo avevamo questa presenza di architettura in negativo. Questo terzo convegno è stato diciamo avuto come filo conduttore l'acqua perché ci siamo resi conto che l'acqua è un elemento che non soltanto è stato determinante soprattutto nell'alto medioevo per la scelta proprio insediativa di questi nuovi siti e quindi quasi più importante diciamo delle preesistenze, della viabilità e così via e il secondo motivo per cui abbiamo scelto l'acqua è perché solitamente si parla sempre di canalizzazioni idiche rimpiegate diciamo nel medioevo ma in realtà non c'è mai stato uno studio specifico che riuscisse a distinguere tra quelle che erano effettivamente strutture portanti già di età etrusca e romana da quelle diciamo costruite ex novo nel medioevo. Dunque un argomento che di per sé potrebbe sembrare banale che invece è fondamentale, è stato fondamentale nel lungo periodo del medioevo. già a cominciare dai primissimi secoli ma anche nel pieno periodo medievale e quindi intorno a esigenze molto diverse abbiamo intitolato il volume religiosità, quotidianità e produttività quindi tre filoni diciamo che da sempre hanno caratterizzato diciamo quel movimento insediativo nel medioevo abbiamo quindi chiesto ai colleghi soprattutto del meridione di affiancare diciamo la loro esperienza a quella che era stata la nostra. Allora sicuramente uno dei diciamo degli argomenti maggiormente conosciuto e forse più trattato è quello della religiosità. La sacralità dell'acqua ovviamente è qualche cosa che è di molto antico, di molto precedente diciamo al medioevo ma che viene ripresa e rienterpretata anche in molte situazioni nel nostro periodo. e dunque nel volume abbiamo diversi interventi che riguardano questo primo argomento. E su questo vorrei che intervenisse subito Giancarlo perché è proprio uno dei filoni importanti che poi lui tra l'altro ha in maniera specifica trattato diciamo nel suo filone di studi e quindi poi io riprendo dopo la parola. Giancarlo vuoi dirci qualcosa su questo? Mi accodo innanzitutto ai ringraziamenti per averci ospitato in questa sede e prendo subito la parola e entro nel merito della questione e appunto parlo del discorso della religiosità in ambiente rupestre soprattutto legato al tema dell'acqua. Come già accennato dalla professoressa De Minicis si tratta chiaramente del tema maggiormente trattato all'interno del volume anche perché il tema della sacralità e soprattutto dell'archeologia legata alle chiese rupestri è molto più sviluppato rispetto ai fenomeni insediativi o produttivi. Quindi diciamo che si partiva da una base di dati di partenza molto più sostanziosa rispetto agli altri temi che poi hanno caratterizzato il convegno che si è tenuto a Storiano nel Cimino nell'ottobre del 2019. All'interno del tema della religiosità comunque ci sono diversi aspetti che dobbiamo distinguere soprattutto in materia di utilizzo dell'acqua e questi temi sono legati a diversi aspetti che sono aspetti ad esempio di natura pittorica quindi anche con un legame tra archeologia e storia dell'arte che riguardano principalmente senza entrare poi nello specifico dei singoli contributi che riguardano soprattutto chiaramente la Puglia e l'Italia meridionale dove si assiste comunque ad un intenso utilizzo sacro appunto dell'acqua alla quale viene poi collegata tutta una serie di rituali e soprattutto di credenze che trovano un ovvio riscontro anche in quelle che sono le testimonianze archeologiche che in questo caso sono di natura rupestre. E questo è anche uno dei motivi per cui è stato necessario distinguere l'archeologia cosiddetta del rupestre dall'archeologia del costruito perché anche le manifestazioni archeologiche con cui si esprimono determinati concetti sono completamente differenti rispetto a quelle della tradizionale archeologia del costruito. Altri temi legati alla sacralità ad esempio sono anche quelli che provengono e parliamo sempre dell'Italia meridionale prevalentemente dai contesti archeologici che sono legati al monachesimo italo-greco dove si assiste in questi casi a uno specifico utilizzo dell'acqua a specifiche strutture che hanno anche delle ricorrenze quindi si trovano delle similarità anche nei diversi contesti archeologici che quindi danno proprio un'idea di una cultura alla base della realizzazione di determinate opere e quindi soprattutto di una conoscenza di sfruttamento dell'acqua. Poi abbiamo anche altri contesti che sono quelli laziali si può pensare alla Valle Sublacenze o comunque anche all'Etruria meridionale in senso lato senza poi voler entrare di nuovo nello specifico dei numerosissimi contesti dove anche qui si assiste a un profondo legame tra lo sfruttamento dell'acqua e appunto la costruzione o l'escavazione delle singole strutture si attribuisce all'acqua chiaramente un valore sacro si attribuisce quindi all'acqua un valore primario che non è semplicemente quello della risorsa o come spesso si pensa della fonte battesimale ma soprattutto si vuole ostentare anche un valore simbolico che andiamo anche a ritrovare quindi nella monumentalità di alcune strutture archeologiche che appunto esprimono questa importanza dell'acqua nei contesti religiosi. Senza voler poi esagerare nell'approfondimento quello che emerge è chiaramente sì un'importanza e soprattutto una rilevanza che viene data alla percezione dell'acqua nei contesti rupestri soprattutto a carattere religioso ma emerge anche una differenza culturale e soprattutto anche culturale in alcuni casi tra i diversi ambiti geografici di appartenenza dove diversi sono gli influssi religiosi ad esempio mentre potremmo assistere al monachesimo italo-greco in Italia meridionale certamente nel Lazio quel tipo di presenza o è assente o comunque circoscritta a isolati contesti archeologici quindi diciamo la differenza anche di presenze religiose si riflette anche in quello che è innanzitutto il modus operandi dello struttamento dell'acqua ma soprattutto in alcuni casi anche nel valore che a questa viene attribuita. Altri casi invece penso a quello di Altamura o a quello di altri contesti pugliesi proprio invece sono delle specificità che richiamano in alcuni casi culti molto precisi quindi non parliamo più di temi generali come può essere il monachesimo italo-greco come può essere gli ordini monastici dei grandi monasteri romani ma parliamo di culti ben definiti come possiamo vedere a Mottola o altrove dove proprio l'acqua in contesto rupestre è presente proprio per la sacralizzazione di alcuni riti che hanno ricorrenze periodiche precise che hanno specificità e che infatti non trovano confronto in altri contesti ad oggi conosciuti sul territorio nazionale quindi questo per sintetizzare credo che possa essere il tema della religiosità nel volume Allora riprendo la parola Giancarlo e continuiamo questa nostra carellata dunque quotidianità e produttività sono due temi che vanno abbastanza insieme cioè a seconda diciamo del contesto in cui ci troviamo ad operare la quotidianità in la maggior parte degli interventi di chi ha partecipato al convegno è stata appunto interpretata come quella necessità che l'uomo ha naturalmente quotidianamente di poter approvvigionarsi d'acqua elemento fondamentale appunto per la vita di ciascuno e dunque è interessante perché i sistemi di adduzione e di naturalmente conduzione dell'acqua hanno delle caratteristiche che si ripetono in contesti diciamo sia laziali che meridionali e questo succede naturalmente soprattutto quando siamo di fronte a quella realtà insediativa che è rappresentata da piccoli insediamenti che hanno un'economia soprattutto a carattere agricolo quindi insediamenti di tripo rurale che nascono in contesti se volete abbastanza diversificati cioè alcuni nascono per problemi di sicurezza quindi su speroni elevati rispetto a quello che è la parte diciamo geograficamente più interessante da questo punto di vista in altri casi si tratta di vere e proprie rupe isolate come nel caso molisano dove troviamo questi massi diciamo di una certa consistenza su cui poi si è andato a organizzare l'insediamento allora è molto interessante vedere le diverse forme dell'acqua cioè in che modo veniva incanalata l'acqua raccolta, conservata e poi naturalmente le acque nere venivano appunto in che modo venivano rifluite i sistemi sono molto simili come vi dicevo nelle varie parti d'Italia soprattutto canalette con sistemi di cisterne ecco le varie tipologie di cisterne sono quelle che ci danno una rosa di tipologie diciamo più articolata e abbiamo ben due interventi in questo volume appunto sul caso materano cioè Matera non soltanto è diciamo un centro molto studiato molto conosciuto ma effettivamente Matera il suo territorio sembra avere una abilità particolare anche un tecnicismo che evidentemente hanno messo a punto nel corso dei secoli che porta dei sistemi estremamente evoluti di adduzione e conservazione dell'acqua e questo anche per una conoscenza approfondita del suo cioè si sfrutta qua le differenze geologiche del suolo mi fa pensare diciamo ai sistemi che noi abbiamo in Giordania diciamo molto più conosciuti o nelle aree dove il rupestre rappresenta un habitat fondamentale diciamo nel corso del sviluppo civile dell'uomo e quindi è interessante vedere questa moltitudine di tipologie che appunto nel materano sono estremamente ben rappresentate allora l'acqua è chiaramente un elemento che serve anche alle città e sulla città c'è qualcosa di particolare da dire cioè noi abbiamo qui in questi interventi l'analisi di alcune condutture acquedotti di alcune cittadine come Viterbo, Montefiascone o Orte ecco le condutture cioè il sistema di approvvigiamiento idrico in città è stato dato in maniera molto semplicistica in passato come eredità dell'antico in quando si tratta di città a lungo e continuità di vita si dice solitamente che appunto si sfruttava quello che erano le strutture idriche romane in realtà proprio il nostro rapporto stretto con gli speleologi ci ha aiutato a capire quando invece c'erano degli interventi molto importanti su queste strutture idriche che se vogliamo possono anche essere di base ma ecco la trasformazione di queste strutture antiche nel Medioevo è qualche cosa di piuttosto complesso cioè non sempre si mantiene la canalizzazione anche se in buono stato antico ma anzi in molti casi si trasformano queste condutture in strutture che non hanno niente a che vedere con l'acqua mi viene in mente l'esempio delle catacombe romane che utilizzano parti di canalizzazione antiche per scopi ben diversi abbiamo nella campagna romana moltissimi esempi di strutture idriche che erano al servizio delle ville romane poi utilizzate come ricoveri, come abitazioni e quindi che hanno perso completamente la loro funzione originale d'altro canto invece in città come Viterbo, Montefiascone di origine medievale che probabilmente avevano dove era già presente un sistema di canalizzazione di bonifica soprattutto del territorio e probabilmente di origine addirittura pre-romana si interviene invece in maniera scientifica molto mirata in modo che l'acqua andasse ad alimentare le principali fonti della città dunque su questo noi abbiamo una lunga tradizione di studi soprattutto sulla Toscana penso ai Botticini di Siena abbiamo Orvieto eccetera ma ecco si è visto con il passare del tempo che anche nelle nostre città laziali abbiamo delle situazioni legate appunto alla funzione economica e commerciale di alcuni rioni in modo particolare vi dicevo che quotidianità e produttività sono legate ovviamente perché spesso noi abbiamo la conduzione dell'acqua strettamente legata allo sfruttamento produttivo cioè l'acqua come alimentazione non sto qui a citare ovviamente l'alimentazione dei mulini, delle ferriere diciamo di tutto quello che nel Medioevo è molto presente diciamo nelle nostre città basti pensare a Viterbo stesso che aveva una corona diciamo di mulini tutto intorno alla città stessa ma nel volume c'è un intervento molto interessante che riguarda le aree costiere quindi l'acqua vista come il mare ecco è interessante perché è un esempio fatto su una parte del Salento sull'area costiere del Salento e lì studi specifichi hanno messo in evidenza questa presenza di cavità nuovamente scavate in altri casi anche naturali però sfruttate in modo particolare per la lavorazione del pesce dunque un'attività strettamente legata all'acqua al concetto al mare a quello che poteva essere lo sfruttamento a livello produttivo di un prodotto appunto naturale come può essere il pesce che ha lasciato diverse tracce che oggi siamo in grado naturalmente di interpretare ecco l'ultima cosa che voglio dire che alla base di questi studi sul rupestre c'è bisogno di una metodologia specifica Giancarlo lo ha già in parte accennato cioè spesso non si è in grado di interpretare il rupestre perché non si è in grado di leggere dal punto di vista proprio metodologico quelle che sono le tracce che noi possiamo vedere ancora in negativo diciamo nelle varie fasi di escavazione di queste cavità e quindi è per questo che si è voluto organizzare diciamo degli incontri che potessero mettere sempre di più in evidenza una metodologia specifica di approccio a questo tema che è naturalmente molto ampio ma è anche molto complesso perché uno degli elementi più difficili da capire sono naturalmente le datazioni cioè il negativo le cavità sono state scavate per una funzione spesso sono state riutilizzate per secoli con funzioni diverse e quindi dobbiamo essere in grado di mettere in evidenza le diverse fasi di vissuto di una cavità che appunto a volte arriva fino ai nostri giorni un altro tema che è venuto fuori e qui chiudo è il tema dell'ambiente del clima e qui l'acqua in modo particolare è stata vista relativamente a quelle strutture che per secoli hanno osservito la caldera vicana quindi parliamo del lago di Vito e del suo contesto l'analisi specifica di questa serie di condotti e di strutture che si trovano in questo ambiente della caldera di Vico hanno messo in evidenza chiaramente un cambiamento di clima cioè il livello dell'acqua che si abbassa che si alza all'interno diciamo del lago e che va diciamo ad alimentare o meno strutture produttive diciamo canalizzazione che servono per l'agricoltura e così via ecco l'analisi specifica di tutte queste strutture ha messo in evidenza quindi un nuovo tema che è quello che attraverso questi dati possiamo appunto riconoscere dei cambiamenti ambientali diciamo molto forti ecco quindi io penso che questo volume sia così forse una goccia in un mare di un argomento che naturalmente andrà ancora spulciato un argomento che andrà approfondito ovviamente con ulteriori momenti di confronto ma credo che sia stato un importante punto fermo di riferimento in questa nostra avventura diciamo di studio degli insediamenti e della realtà rupestre vi ringrazio professore pastura ad aggiungere qualcos'altro? una un piccolo inciso un piccolo quasi lancio pubblicitario direi mi permetto nel senso che chiaramente come già detto dalla professoressa De Minicist il tema del rupestre implica un attento rigore metodologico nell'approccio al manufatto e soprattutto l'approccio al rupestre deve confrontarsi a me con una serie di tradizioni consolidate soprattutto riguardo all'interpretazione delle cavità alle quali spesso vengono attribuiti utilizzi che non sono realistici quindi diciamo minati da questi campi leggendari che hanno reso complicati gli studi di chi soprattutto all'inizio si è approcciato a questo nuovo filone di ricerca a questo proposito il volume sostanzialmente anche in maniera quasi casuale nasce quasi in contemporanea con un manuale curato da me dalla professoressa De Minicist ma da Paolo Dal Miglio e da Vincenzo Desiderio che è proprio un manuale di archeologia del rupestre nel medioevo metodi e strumenti interpretativi ed è proprio un momento in cui abbiamo voluto raccogliere tutti quelli che sono la storia degli studi ma anche i passaggi operativi che portino ad interpretare un contesto rupestre oppure una singola cavità seguendo una prassi rigorosa e che sia avvalorata quindi da numerosi elementi quindi questo era solo quello che volevo aggiungere questo manuale ormai è stampa credo che sia uscito che sarà presentato nei prossimi giorni bene direi che l'argomento è davvero interessante anche perché come dicevo all'inizio non è consueto non è un argomento che noi troviamo in abbondanza quando ci accostiamo al medioevo e probabilmente possiamo tutti quanti scoprire delle realtà e dei metodi insediativi e operativi che possono sorprenderci e che possono cambiare anche la prospettiva al punto di vista su questi benedetti secoli bui che ci continuiamo a portare dietro come un marchio infame e che invece sono quanto di più lontano ci sia dalla realtà che ci viene poi raccontata da chi la studia davvero io mi ringrazio molto e prima di ringraziarvi volevo ricordare il titolo del libro il rupestre e l'acqua nel medioevo religiosità, quotidianità, produttività a cura di Elisabetta De Minici e di Giancarlo Pastura che sono stati i nostri ospiti un testo pubblicato dall'insegna del Giglio 198 pagine ricche di testimonianze e di saggi perché è il risultato di un convegno come è stato detto che si è tenuto nel 2019 e che consiglio a tutti di acquistare e di leggersi con attenzione ringrazio tantissimo i nostri ospiti vi ricordo di seguire sempre il nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potete trovare tutte le nostre video presentazioni oltre a numerosi articoli e altre amenità legate al medioevo e alla nostra volontà di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale artistico e storico del medioevo italiano grazie a tutti e due grazie a voi ci rivedremo presto perché quando avrete qualcosa di nuovo noi saremo sempre disponibili e disposti ad accogliervi grazie ancora grazie molto grazie a tutti